allora come tanti mi hanno chiesto oggi finalmente vi faccio vedere un modo per ascoltare i messaggi di whatsapp senza dover fare le scamottaggi e andare sulle fonti media e dover aspettare che lui si colleghi con il media senza avere l'audio della macchina eccetera quindi una cosa molto veloce e pratica innanzitutto andiamo su impostazioni nel nostro mmi verifichiamo che la funzione di bluetooth la lettura dell'audio sia disabilitata poi possiamo tranquillamente tornare alla nostra radio alzando il volume una volta fatta questa operazione per ascoltare un messaggio whatsapp una volta che ci arriva basterà pigiare play sul messaggio whatsapp e fare finta di portare il telefono all'orecchio in questa maniera così facendo andremo ad oscurare questo sensore io di solito passo il dito il pollice per oscurarlo e molto banalmente pigiare play oscuriamo il sensore test 123 prova test 123 prova e poi tornerà al nostro audio questa funzione molto comoda e non funziona se abbiamo impostato il lettore multimediale come attivo quindi ricordiamoci di mettere in off con l'impostazione questa funzione si può utilizzare anche quando siamo sulla navigazione sempre pigiando play e scorrendo il dito test 123 prova test 123 prova ovviamente potremmo ascoltarli anche quando ci arrivano dal telefono bloccato sempre facendo finta di portare il telefono all'orecchio spero di esservi stato utile grazie continuate a seguirmi sul mio canale alla prossima